Ciao lettrici e lettori, quello di oggi sarà un video super breve ma devo fare un annuncio e ci tenevo a fare anche un video su youtube visto che l'altra volta è successo un po' un casino ma avete tutti iscritto quindi, visto che questo mese sarà il compleanno di Miss Fiction Books ovvero il 23 ottobre il canale compie un anno volevo organizzare un Q&A dedicato a quello che volete sapere gli affaracci miei che vi volete fare però insomma chiedetemi quello che vi sentite di fare e niente, per farlo potete usare o i commenti sotto oppure seguirmi su Instagram dove piano piano raccoglierò un po' di domande per questo Q&A in modo da riuscire a farne entro il 23 un video dove raccolgo un po' tutte le vostre curiosità, le vostre domande spero che sia un'iniziativa carina come primo compleanno di Miss Fiction visto che banalmente non ho avuto anche altre brillanti idee e niente, mi farebbe piacere sapere quello che volete sapere se avete delle curiosità, se avete domande riguardanti un po' le letture ma anche non solo, insomma fatemi sapere e io vi risponderò con un video nella settimana del 23 io vi ringrazio ovviamente per il tempo che spenderete nel formulare le domande e direi che ci vediamo al prossimo video ciao